L'idea è proprio di esplorare ai limiti quello che poi è nel linguaggio contemporaneo di adesso questa idea del nulla è come sembra per cui le suggestioni del soffio piuttosto che del respiro possono diventare profumi come nel caso di Noa Noa, possono diventare angoscia come nel caso di Labirintes di Vittorio Montalte e poi gli autori spaziano molto da autori italiani, autori stranieri, quelli più di punta, diciamo quelli più immaginifici Per cui abbiamo dovuto studiare bene i brani, capire anche molto bene da dove vengono fuori alcuni suoni particolari abbiamo usato addirittura dei microfoni miniaturizzati all'interno del flauto per catturare al meglio alcuni particolari suoni Per uniformare lo spazio acustico abbiamo lavorato in maniera anche molto particolare e volendo anche molto artistica più che tecnica sull'aspetto dello spazio acustico dei brani per il flauto solo per aggiungere questa dimensione Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!